Nel vasto e incantevole mondo della fauna artica, una delle creature più affascinanti è senza dubbio la volpe artica. Questo splendido mammifero, noto anche come volpe polare o volpe bianca, ha adattamenti sorprendenti che gli permettono di sopravvivere nelle dure condizioni dell'Artico. Il suo colore tipico è di un bianco puro, perfettamente mimetizzato con l'ambiente in cui vive. La pelliccia spessa e densa funge da isolante, proteggendola dalle temperature gelide. Le orecchie piccole e arrotondate, il muso corto, la folta coda e le zampe pelose la aiutano a ridurre la dispersione del calore corporeo. La volpe artica è un abilissimo cacciatore. Le sue prede preferite sono i roditori, ma può anche cacciare uccelli, insetti e persino carcasse di balene spiaggiate sulla costa. Questa capacità è essenziale per far fronte alla disponibilità di cibo nell'Artico. L'ottimo udito e la vista superba le consentono di individuare facilmente le prede.